Gabriel, probabilmente stavate immaginando un risultato diverso nel final. Cosa vuole questa ultima raccoglia del weekend? Nel final non eravamo il migliore pace. Non abbiamo trovato il migliore set-up per la final, ma non posso dire troppo. Abbiamo fatto un'ottima settimana. Abbiamo vinto tutto e il final non eravamo il migliore. Ma l'importante è che stavamo la legge del campeonato. E ora abbiamo un lungo campeonato per battere. Sì, è vero, perché dopo la posizione, dopo tutte le vittime, sei il migliore del campeonato. Sì, è stata un'ottima settimana. Abbiamo vinto tutto che possiamo. Abbiamo vinto il superhitto. La final non è il risultato che vogliamo, ma stavamo qui. Sì, sì. Siamo iniziando in Spanio. Come un ragazzo, due anni fa, in Campillo, hai avuto la posizione del campeonato in OK World Championship. E questo weekend, nella prima ronda dell'Europa, hai avuto la posizione del campeonato, quindi hai avuto iniziando in questo paese. Sì, sicuramente. In Spanio, tre raccoglie in FII, facciamo tre posizioni. È incredibile. Grazie. Grazie.